6 avvocati, 5 commercialisti e 3 imprenditori accusati di essersi appropriati di oltre 7 milioni di euro insinuando nei procedimenti fallimentari crediti inesistenti, tra cui uno relativo alla realizzazione di una serie tv riciclaggio, peculato, falso, simulazione, i reati contestati gli arresti sono stati eseguiti dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Roma Grazie